il minimalismo in letteratura, gli epigrammi di Marziale. Perché? Perché l'opera con cui Marziale è rimasto celebre nel corso della storia sono appunto gli epigrammi e cioè dei brevissimi componimenti. Sono dei brevissimi componimenti in cui uno degli aspetti fondamentali è proprio l'ironia, l'ironia satirica per così dire e ne ho selezionato proprio qualcuno da leggervi. La cosa interessante degli epigrammi di Marziale è che sono una letteratura intellettualmente se vogliamo impegnata. In che senso? Nel senso che trattano di quella che è la realtà. Tanto che sono in netta contrapposizione per esempio con l'epica. Solo per farvi un esempio, vi leggo, vediamo questo che avevo selezionato per voi. Leggi questo di cui la vita possa dire è mio, hoc legge, quod possit dicere vita, meumest, cioè leggi i miei epigrammi lettore che sono degli scritti in cui tu potrai riconoscere la tua vita, la tua quotidianità. A che cosa ti servono le inutili illusioni di una povera carta? Non troverai centauri, non gorgoni né arpie? Nella nostra pagina si sente l'uomo e questa probabilmente, questo è il verso chiave che vorrei cari amici che vi ricordaste. Ominem, pagina nostra, sapit, cioè la nostra pagina sa, racconta l'uomo. Ma tu non vuoi, Mamurra, riconoscere i tuoi costumi né conoscere te stesso. Leggi Callimaco e quindi una critica a coloro che vogliono leggere, fare letture, che non parlano di quotidianità, di vita comune. Questo è sicuramente il tema fondamentale degli epigrammi di Marziale, quindi lo spettacolo della realtà, raccontato però con occhio satirico. Quindi ci sono personaggi come il parassita, oppure l'imbroglione, il cacciatore di eredità, oppure il poetastro, colui che cerca di avere successo con invece produzioni, produzioni molto banali. Ecco allora che potremmo parlare di universo per ciò che riguarda gli epigrammi di Marziale, perché rivestono, insomma, parlano di un po' tutte le esperienze umane. In questo caso io vi ho fatto leggere un epigramma legato alla polemica letteraria, però ce ne sarebbero altri di altrettanto interessanti. Vediamo un po'. Anche questo è legato, siamo nel quarto libro, è legato alla polemica letteraria. Dai nostri libretti è lontana ogni gonfiezza, la nostra musa non è rigonfia dell'insano strascico tragico, eppure tutti lodano, ammirano, venerano quei poemi. Lo riconosco, lodano quei poemi, ma leggono i miei epigrammi. Quindi Marziale, con una sorta di orgoglio che rivendica l'originalità e la quotidianità delle tematiche, dei propri epigrammi, in maniera tale che l'uomo se ne senta protagonista. A volte il linguaggio può essere anche scurrile, le tematiche erotiche licenziose. Vi leggo questo solo per farvi capire il tenore di alcuni epigrammi. Soltanto tuoi sono i poderi, Candido. Soltanto tu hai i denari, soltanto tu hai i vasi d'oro, di mirra, tu hai le anfore di vino massico e di cecubo. E soltanto tu hai il senno, l'ingegno. Soltanto tu hai sono tutte queste cose. Ne credere che voglia negarlo, ma la moglie Candido l'ha in comune con tutti. Quindi davvero raggiungiamo livelli abbastanza bassi. Oppure ancora riflessioni su ciò che si ha nella vita, in questo caso sul non avere niente da perdere. Avevi, se ben ricordo, quattro denti. Un colpo di tosse, Elia, ne ha buttati fuori due. Un altro colpo, altri due. Adesso puoi tossire tutto il giorno. Capite l'ironia? Anche sottile di alcune situazioni di vita quotidiana come poteva essere il perdere i denti nella Roma del primo secolo, del primo secolo dopo Cristo. Quindi ricordatevi gli epigrammi di Marziale come componimenti davvero molto brevi che richiamano il genere antico dell'iscrizione che di solito era di tipo funerario e in questo caso invece spazia per comprendere tutto l'universo umano in un contesto che effettivamente, come potete sentire, si limita sempre a ciò che è la realtà effettuale, fattuale, non va oltre e si limita ecco solamente alla descrizione, non al giudizio.